25 a tempo Sono tutti quanti da ogni ora, se li conosco tutti Almeno come gioco Bravo Corsa Siamo giocati, vedete Mi metto la luce No no Mi hai messo perchè lo convence molto bene Ma quanto è un attimo E' 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 un attimo Ecco qua E' un attimo 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 Secondo me stiamo tenendo la palla di un primo gioco. Hanno fatto anche un'ora di allenamento prima. Hanno fatto la maggiorità l'anno scorso. Hanno fatto la maggiorità corretta. Allora, Ale, vai verso la palla. Andiamo ora, andiamo ora. Guarda, Ale, guarda qui. Va bene, va bene, bravo Gio. Va bene. No. No. Sì, è vero. Siamo più alti, siamo più alti. Sono d'accordo. Hai ragione. Diego molto bene. Lancio bene. Lancio bene. Dai, dai, Diego. Bravo, arbitro. Pippo. Prevenuto, ma bravo. Dei calciare con i canzzi. Figa, ci vede? Ci vede che, guarda che appena può... Vai, Pippo! Cazzo hai tu alla schiena? Cosa hai fatto? Cosa hai fatto? Ho fatto... Spiaglio nell'orecchio. Ho fatto un tiro. Ho fatto un cazzo. Ho fatto un cazzo. Facendo un cazzo per dieci minuti. Ho fatto un tiro. Spiaglio. 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 Eh, eh. Eh, eh. Eh, eh. Dai, ragazzi, bisogna fareggiare. Bisogna fare la porta. Non basta prendere la porta. Prendi la porta, cazzo. Sì. Bravo, Ichi. Bravo. Sotto, Tecchila che è nostra. Palla. Palla. Ortele? Due, eh. Palla. Palla. Che blu... Aranjo... Nostra. Vado a te... Vito, i novi... Vado a te. Queste sono sempre più... Cazzo, per fare una... Vado a te. Vado a te. Bicca. Non basta. Vado a Bipo. Arriva, arriva. No! 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 Perché ha il beat? No! 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 Non so, mi è morta, sì! bravo 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 Diego dai bravo si adesso vabbè non dovevamo farglielo fare non è colpa di nessuno colpa di difesa vabbè dai bravo bravo cassa stai più alto cassa stai più alto bravo bravo andiamo va bene va bene bravo 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 stai lì stai lì stai lì vai 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 peccato è buona sta tenuta bravo comunque meglio meglio stai più alto stai più alto sono scambiato bravo 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 bello bello dai va bene affreddo grande hai capito perfettamente il ruolo bravissimo bravissimo dai stiamo andando meglio ragazzi dai che stanno giocando sei piaciuto mi sei piaciuto stanno correndo un po' più alto un po' più alto guarda qua dove ce l'hai ma poi adesso vi fai un attimo andiamo poi sono anche un fissile perché hanno fatto un'ora di allenamento penso che si vede vai neanche te ma che non c'è fai vai ragazzi un po' di cattiveria avancio due gambe sai capito che ci stanno incendi però comunque la palla la proteggono ragazzi due volte in tre dentro ragazzi calciamo e basta no come l'esco guarda ricorda ricorda occio occio bravo colza tutta tutta va bene va Diego di là non stanno facendo niente però lo farei io il puntiero al posto di catta torno all'origine grande Ale bravo 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 va smettila due minuti siamo siamo al tredicesimo quasi quattordicesimo dai tra due minuti facciamo il quattro dicesimo dai Diego bassa bassa bravo Porto stai giocando perfettamente tatticamente perfetto sei come signorini bravo si bravo Diego va bene dai va bene così dai Cata tre minuti alla morte tre minuti alla morte che poi entro gli ultimi cinque così va bene ragazzi va bene Ale vieni a destra vieni a destra presa grande Ale grande seguilo che ce l'hai seguilo bravo Porto bravo Porto che non va non va non va dai 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 altri dai che sbaglia dai che sbaglia devo stare più alto vedi che faccio qua giù dietro giù dietro giù 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 attenzione giochiamo di anticipo bravi aiutiamolo aiutiamolo anche dietro dietro seguiamolo gira gira c'è giù c'è giù c'è giù bravo Pippo bravo Pippo difficile mettiamola in terra dai stai stai strati pareti ragazzi stonnellone facciamo fare un altro piano al calcinone lo facciamo fare fai a casa tempo dagli angolo cozza veloci veloci dai uno sul palo giochiamo basta anche il pareti sembra che stiamo vincendo noi stiamo tenendo stiamo giocando meglio stiamo giocando meglio dobbiamo giocare un po' no 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 era fuori basta essere un po' più cattive tra virgoletta nel senso più più duro ramella ramella con la R quello alto quello alto lo riconosci subito quello alto longilineo secondo tempo dovrebbero calare no non calano bisogna puntare sulla nostra qualità bisogna puntare su di noi sulla nostra arriva dai prova ha toccato ha toccato ha toccato 5 minuti al posto di altro è bello a chiamare però non ti manca come manca a noi bravo portiere bravo dai Alfred 4 minuti ancora dacci dentro bello si no va bene va bene grande Porto mi stai piacendo dai andiamo a tirare su torniamo tutto per l'andolato dai vabbè dai però l'andolato dai vediamo di più dai proviamo lasciamolo solo vai Ale segui l'uomo in mezzo bravo Colza bravo Colza vai Ale vai fluidifica funzionano gli occhiali bravo solo arriva Diego sta facendo una partita ragazzi è bravo bravo Diego era bella era bella Diego cosa fai Pippo no cosa fai eh non lo so hai messo giù male piede cosa è successo aspetta c'è il ghiaccio ecco quale è successo non togli la cosa è segnalare Filippo, aiutalo a spostarlo indietro. Non ti fai scimare. Ti fai scimare. Ti fai scimare. Ti fai scimare? Ah, storto. Prova anche! Stai lì, stai lì! Stai lì che ci abbiamo dietro Giorgio! Stai lì! Stai lì! Stai lì! Sì, Ale! Calma, calma! Guarda, guarda, chiedito! Vai, vai! No, no, non... Non bene! Bravo Colta! Alfre, com'è? Alfre, com'è? Non tutti su, non tutti su! Alfre, tra un minuto facciamo il cambio, poi rientro nel seconde. Filippo, cerca di tirarlo indietro. No, fammi sognare! Per le mani! Aiutiamolo! E poi lo tiro indietro io. Manca cinque minuti! Bravo! Solo, solo! No! Dai G! No! Manca cinque minuti! Sì, cinque minuti! Vieni, Alfre! Togliere! No, è stato ripreso! No! Ecco, Colta! Bravo! Attenzione Colta! Bravo! Dai in campo! Aiutalo! Aiutalo! Bravo! Dai, vieni la parte, si venghi la pieghiera! Vieni, vieni! Vieni, vieni, vieni! vera adesso c'è la mancuazza sei sempre ripreso? un caso la volta che ho detto vieni con un secondo però non è il caso bravi bello, bravissimi è in corso dei pali, bellissimo bello, è in corso dei pali bello, bravi è in corso dei pali dai eh, forza dai Porto, Porto, dai eh dai, dai dai, dai dai, dai ti auguro, ti auguro ti auguro, ti auguro ti auguro che me? Buono, bellissimo, la punizione. Sto qui bene, bene bene. Sì, sì, è un altro. Bene, sta. Ha fatto male, adesso non c'è bene. Buono, 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 buono. Buono, 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 buono. Buono, 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 buono. Buono, buono, buono. Come va, meglio? No. Guarda, ti sei solo dato la capiglia, è vero? Io mi inizio di sbustare. Eh, ho visto. Buon bel caso. Bruttissimo. Lasciamo, eh. Lasciamo in porta, eh, dai. Se riesci a andare a casa, ti porto, non lo pierdi la nata. Bravo, bravo Diego! Sì, Diego! Bravo Diego! Te lo sono realizzato. Anche tu. Filippo, che hai fatto la punizione prima che hai segnato? Mancano 30 secondi, Carlo. No, per questo... Ti hai segnato la punizione? Eh... Contratelo! Ho visto la bella punizione? Eh, Alessandro. Vabbè, bravo. Carlo! Bacca 10 secondi. Adesso vediamo, non lo so. Finita? Finita. No, l'ultima azione. Bravo, forza! Scusa. Scusa. Accusa downtime. Scusa. Ahah. Buono. Come si? Eraw�� io. Che sogno? Umoviglio. Umoviglio. attenzione bravo bravo va bene non avete capito com'è non avete capito non cambia più neanche bravo bravo reza è drusso non tra le donne non tra le donne bravo 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 uno per noi si è normale bravo bravo piano piano si sa che lì era leggermente fare no va bene per me se teniamo se riuscissimo a farne un altro saremo più tranquilli bella palla Diego vabbè mi piaceva il Pippo che si è fatto un po' male 25 minuti mi sono basato di due e mezzo sono appena iniziato ma Diego non mi sembra vedi però dammi un ruolo io starei dietro o no mi sento di tenere la palla comunque a prendere la palla è grande Albi come stavo correndo sono strappati sotto Albi però sta tenendo bene lo so però in generale stiamo tenendo bene dobbiamo farne un altro la palla lì la prendevo tutta la vita bello corso va bene tranquillo succede vedo che il tre si Alfre tutto è storio ragazzi strati non so male cosa? eh va bene va bene va bene io sono un po' aline forse è la patata scusami i suoi due per farci la tua pere provi Grazie a tutti. Gli faccio arricchiettare tra Ale Miletto e Ale Pagnacolo E' stato giocato tutto il momento Molto pare, sono un po' sguarniti Dopo io direi di mettere il freddo qui in mezzo Va bene, bravi per la difesa E' un po' sguarniti per il cazzo E' a metterla dentro Un'occasione, un gol Davvero portiere Ogni vero portiere è segnare, giustamente E' vero, guarda che Tra i giocatori Quelli che sono più bravi in porta sono anche gli attaccanti Ti vedi quando una squadra è senza portiere di ricambio Va in porta sempre l'attaccante E' importante avere qualcosa nel taschino, insomma Gli angioli Non ci sei capi Ti vedo molto in forma Vabbè, vabbè, se la passi bene 5-30 Bravo Corso Bravo Corso Calmo, calmo, calmo Sì! Bravi, è bene È bene Quello che serviva Lucidi, lucidi Bravi, bravi Non moliamo, eh Non moliamo Vioca in mezzo bene Vede copri Alfred Sta in mezzo al posto tuo Sta in mezzo Tutto ok Albi? Sì Siamo a 3-1 Dai bravi Ha fatto 7 partite negli ultimi 8 giorni Per quello che un po' pesa Vabbè Sfido anch'io Eh grande Bravo Due partite Va bene Un bel apporto Un bel apporto Guarda, uno qua, uno qua Uno qua, l'agri a sveglia Si è messo sulla Juniores dell'Europa Eh eh Fuori fuori Bravo Bravo Alfred Ma dov'è l'area? Dov'è cazzo è? Sulla gialla Ma cos'è, dov'è? No ma giusto, giusto Si è arrivato Alla 3-4 Sono solo una parte Grande Come si chiama Filippo? Che dire? L'agri a portere non lo so Vede Vede è proprio di nome Vedeschi Vedeschi, sì Filippo Filippo Pippo si è fatto male Mi spiace Però Perché fai Devo Percato, contento Abbiamo fatto la classe Lecce insieme Ho capito come ha fatto a toccarmela Ero già per terra Mi ha toccato la palla Alla fine Cazzo Avevo già Ero già conquistato il penalty Cazzo Ero già giù Ma scusi Hai visto quando mi ha dato la palla Non so qui Che io Volevo fare uno scatto E mi andavano legando Pensavo di essere strappato Ero legando insieme Grande defa Eccolo Non esce Non esce No Ragazzi Le segnava adesso Il segno è rovezzata Non ne è mate Non so che ho più in coraggio Sono ancora Alle 10 O un quarto Sto spegnendo Sto stanco? Faccio cosa? Non ci mancano 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 No, no Iniziamo Ne mancano 16 16 Tu albi Te la senti giocare Un po' più in un po' No, guarda Quello scatto lì Che la mia mente voleva fare E le mie gambe hanno detto no E gli ha fatto un po' No, no Passare O Buona, buona Buona Ce lì Siamo attenti per questo tiro Sì, Filippo è quello che mi porta Ognuno ha un uomo, ognuno ha uno Occhio Alfre Bene, bene Vai, ordinati Una mano in mezzo, Alfre, grande Scusa, ho visto i corridoi qua Sai cosa specializzato a sette, cinque Ma sai cosa, forse adesso Bravo Normale Ale, come stai? Come stai, Ichi? Vuoi riposare un po'? Vai, vai, vai No, no, se ce la fa il giochera, per riposare un attimo E' giusto Se ce l'avessi, ce li vuoi darei Bravo, va bene Appoggia, appoggia Eh, arbitro Oddio Oddio Bravi Bravi ragazzi Grande, Ichi Grande, Ichi, che partita che hai fatto E che partita Complimenti Porto Porto Per il momento che sei partito di tuoi fratelli Cazzo Per esempio Fino a pensarci bene Stai nel finale, 5 e 1 Dai ragazzi, dai Ma presto 10 kg Ma come è bene? Di tutto Stai facendo una dieta Con una dieta Con una dieta Con una dieta Con una dieta Sì, ma li aveva persi anche con mia madre Poi dopo i 3 mesi No, no, adesso è serio Nella bimba Ma tu l'hai mandato veramente su sbaglio Il figlio con lui che è in piscina Sì Grande, così, così Sto guardando sul feng Ho sbagliato proprio Ma tu hai preso il mio gol, eh? Sì, sì Stai in piscina a filmare le mamme e le posta Bello, eh? E invece c'è dentro il suo fratello Certo Ma quello è vero Mamma mia, veramente Bravo Ce l'hai, ce l'hai a sinistra Dai, torniamo, torniamo, torniamo Anche tu 10 Dieguito, Dieguito, provala Filippo 10 Sì, Ale Bravo, Ale Bravo, Ale Bravo, Ale Ale Calma, eh Depe, hai detto Depe, eh? Vede, vede Vede, vede Vede, voglio il gol, vede Bravissimo Terza stiamo Leggo Stiamo In confiantes No, non si Ар Ci stiamo a grandissimo ragazzi concentrati è amico no scolta uomini bravo bravo diego uno sul palo dai tenete eh dai giù 5 a 1 eh 4 a 1 4 a 1 4 a 3 ah quanto ha tomato succede bravo bravo Gio sai cos'è la cosa strana che noi la loro età adesso andremo al 2 14 anni meno di noi vanno 18-19 anni allora dovrebbero uscire fuori adesso siamo 16 anni per noi voi di che anno siete? di che anno sei? io 85 85 ero stanno 90 eh si va bene va bene va bene torna diego torna 10 anni meno di te guardalo guarda diego cioè qua abbiamo una concretezza ragazzi bravi bravi diego diego voglio la bomba ti becca la forza vai vai tira il chè tira tutti gli altri tuoi alle siete quattro ci includiamo anche ci includiamo anche frede come si chiama quello alto nostro? cata 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 mandati davanti al portiere dove tirare tu? cata no no grande vede lui le ho 87 mio fratello vuole in gol vuole in gol tu li che anno sei? io 85 85 cazzo è? vabbè 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 è un portiere è un portiere va bene farlo giocare punta ma non può capire non si può ha detto che aveva il destro no dai infatti non mi piace questo atteggiamento no vabbè guarda questo a sinistra bravo alfre guarda cosa non bisogna fare vedi perché non vinceranno mai guarda cosa non dobbiamo fare infatti anche perché noi ragazzini appena nati anche perché noi nel bene o nel male siamo sempre stati tranquilli eh? nel bene o nel male noi siamo sempre stati tranquilli stavamo perdendo 1-0 tranquilli sempre 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 ma noi abbiamo noi abbiamo spiegato dai facciamo il quinto dai dai calfre buono buono chiudiamola ci vuole esperienza per essere tranquilli dai che non posso di vedere una volta che vuole battere un'altra volta che vuole battere no io non ce l'ho non la vuole mettere no non la vuole mettere dai ma va bene vede va benissimo voglio il gol dai tre non voglio farlo non voglio farlo non voglio farlo non voglio farlo infatti doveva attirare diechito ciao diego quindi 4-1 vabbè buono no 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 l'aveva montata via l'aveva montata via oh 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 sono uno in più Carlo sono uno in più eh sono uno in più eh Carlo Carlo sono in otto e ce la fanno no no l'aveva mandato via capito forco Non stai calmo Bravo Colza, complimenti Bravo, bel tiro, rifallo Grande Colza, pure E non è al 100% No, no, occhio Va bene, bravi, bravi Non lo fa bene Calmo Gio Porto, porto Porto, ten calmo, è un bambino No, è vero, è meglio staccare Che bella che non c'è motivo Via, via Non so, non so, non so Ragazzi no, però così no Oh, sveglia Sveglia, eh Dai, dai Oh, stanno proprio subito in un quadro Torna, tornate Sveglia Dai, sveglia ragazzi Se lo lasciamo davanti la porta Povero Colza Cosa ci può fare Niente Ragazzi, porta, dai Dai, attenzione Se lo lasciamo davanti la porta Non è che può fare miacchi Ragazzi, allora Come si chiama il Bede? Bede Vedo Vedo, vedo va bene Filo, vedo Che ma come vuoi? Come ti vieni meglio? Dai, dai, dai Balla, forte, forte, forte Oh Balla, grazie Bravo Colza Con batticelo Ascolta, con batticelo Cinque minuti No, sarebbero cinque Però, vabbè, 16-2 è bene Lo stesso Ma che cazzo? Ma come fai? Ha tirato Ma ha tirato Come fai? Ma è palla Ma è palla piena Scusami Ma è tirato fuori L'ho vista anche qua Era palla piena Ma è palla piena Dai, era palla piena Tutta la vita L'ho vista anch'io Dai, sono onesto Colza L'avrei detto se no Colza È palla piena Gliela pari, Colza Colza, gliela pari Occhio, Ic Va bene Dai, raga, tranquilli Tranquilli Concentrati Era inesistente il rigore però Mi spiace, ma era inesistente Faccia sempre a destra il ferito Sempre inesistente È palla piena, ragazzi Va bene Adesso non voglio insistere Però era palla piena Sì, era sta buono È buono No, non mi feca niente Vai vai Ancora, ancora 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 Non sono tranquilli Quanto Senza fallo Agitiamolo Chiediamo Chiediamo Bravo Diego Vai Diego Vai 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 Lulega Lulega Vabbè Però questa cos'è Vabbè Quanto ha l'edificazione Siamo all'ex-alumni dell'euro Questo è bello Voi come andate a palla Questo va bene Bravo Ciro Bravo Colza Bravo Non invitare qua i preti Ti muoio un infarto Giusto Ma sì, lascio stare Bravo Danne Colza Danne Colza Bravo Colza Tommy, quanto manca? Mancarebbero due minuti 22.47 Sì, ecco, tre minuti Sì, perché è la palla piena È la palla piena Poi ci può stare Per carità Succede Sbagliare Mi sembra la palla piena Dietro 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 Quindi, dipendente da quello Dobbiamo giocare concentrato Andiamo dietro Uno davanti Uno davanti Vai Alfred Occhio dietro Continua a bestemmiargli in faccia Avete fatto le scatole per bestemmiare però È un campionato se siete già tutti quanti fuori Sapete meglio di me Ed è vero Dai, c'è ancora tempo per vincerla Icci Non te lo scato Ancora tempo per vincerla Dieguito Dai Alfred Distanza però Mezzo metro Cazzo Vai, vai Palla, palla, palla Palla Pietro Dietro Stai calmo però Ha rotto un po' le scatole per bestemmiare Ecco Ecco L'hai detto tu E fatti le domande L'hai detto lui Nonostante tranquillo Sono bravi Sono bravi Sono bravi davanti al campionato Perché fanno così Dove c'è Voglio che ti dia il numero della cascina Sai che ti spacco la testa Faccia da cazzo C'hai dodici anni Allora La voce da firla Vieni, vieni 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 Grazie a tutti.